da 0 a 10.000 follower in 6 consigli tabuia agency io sono Davide Bernia marketing e comunicazione per operatori del settore cinofilo la favoletta del video che va virale non è mai esistita tanto meno ora quindi primo consiglio insistere, insistere, insistere tutti i giorni contenuti tutti i giorni video tutti i giorni essere presenti e comunicare prima o poi questo creerà una breccia col tuo pubblico non puoi pensare di avere una comunicazione sporadica oggi devi insistere, insistere, insistere è facile? No soprattutto all'inizio avrai dei numeri bassissimi lo scoramento sarà grosso ti sembrerà di non ottenere risultati ma passo passo invece questi risultati otterranno questo è il mio altro canale l'altro mio canale si chiama Traffola Academy funziona abbastanza bene per essere un canale super di nicchia ora come ora questo è il terzo video che faccio su Taboo Yagency quanti visualizzazioni farò? non lo so ma continuo a fare video video, video, video vedremo se anch'io riuscirò questo è un percorso che stiamo facendo insieme secondo consiglio che vi do essere riconoscibili avere il tuo format copiare oggi 2024 non funziona a meno che tu non sia un fenomeno della comunicazione io ho iniziato a fare i miei video con la mia telecamerina nel bosco i primi video in studio a lume di candela e quella è andata a creare per causa di forza maggiore una cifra stilistica che alle persone che mi seguono piace i miei video sono quelli fatti così in prima persona che un me che riprendo con il cane oppure me in studio come sto facendo ora e ora diciamo che di passi ne ho fatti anche tanti però trovare il tuo format è fondamentale canali come il mio ne stanno nascendo tanti ma i numeri sono differenti devi trovare quello che ti rappresenta quello che ti viene bene quello che ti piace e diventare unico è riconoscibile terzo punto trova il posto giusto se stai iniziando un percorso di comunicazione che tu sia una tua lettatura o tu abbia un centro cinofilo o tu sia o abbia tu una tua attività di cinofilia non pensare di dover essere necessariamente presente su tutti i social tiktok instagram facebook youtube ogni piattaforma le sue regole ogni piattaforma va studiata e bisogna essere efficaci è molto meglio essere efficaci su una piattaforma che essere presenti su tutte in maniera non funzionante come direbbe il grande montemagno meglio essere forte su un social che essere capitano mutanda su tutti quarto consiglio che vi do quarta considerazione comunicare non è gratis comunicare costa costa o tempo o denaro tempo perché appunto come dicevo prima insistere 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 studiare fare contenuti vedere quali funzionano quali no migliorarsi e non è gratuito il tempo soprattutto per chi come noi ha magari un'attività con cani e deve portare avanti tutto il resto però se vogliamo far crescere la nostra attività questo è un investimento l'investimento è o di tempo appunto o di soldi se no significa crearsi uno staff pagare delle sponsorizzazioni su youtube su facebook però comunque comunicare è gratuito d'accordo non vanno questa è un'altra cosa che devi tenere assolutamente in considerazione se vuoi iniziare ad avere una comunicazione efficace quinto consiglio che ti do non fidarti di chi ti porta la formula magica di chi ti dice faccio tutto io per te ti regalo i template per fare le tue grafiche ti faccio il sito a 9 euro e 90 ti regalo il videocorso che ti cambierà la vita tu non dovrai fare assolutamente niente esistono consulenti esistono persone serie che fanno questo lavoro ma di sicuro ti diranno che il tuo impegno sarà la carta fondamentale da giocare il tuo valore dovrai spiegare tu comunicarlo come comunicarlo dovrai dare delle indicazioni poi da un punto di vista tecnico potrai anche appaltare delle cose tornando al punto di cui parlavamo prima rispetto rispetto all'investimento ma sicuramente la ricetta magica senza fatica non esiste sesto e ultimo consiglio fondamentale è imparare a dire è colpa mia se io faccio un contenuto e questo contenuto non va non me lo devo prendere con l'algoritmo con la nonna di goldrek con il meteo con i big poteri che fanno andare avanti gli altri e non me se io faccio un bel contenuto questo contenuto prima o poi verrà visto e arriverà ad avere l'attenzione che merita se il contenuto non funziona vuol dire che ho fatto un contenuto che fa schifo torniamo al punto che nel momento in cui apro un canale ci vuole un po' di tempo per farlo macinare però in questo tempo dobbiamo imparare come fare contenuti sempre migliori se i nostri contenuti non vanno significa che non interessano youtube spesso consiglia contenuti di canali nuovi con 100 visualizzazioni 50 visualizzazioni il problema è che se io apro quel video e lo schifo dopo 3 secondi perché quel video lì fa schifo youtube non lo presenterà poi ad altri utenti se io invece apro quel video che ha 30 visualizzazioni perché ha una copertina fatta bene e lo apro mi incollo lì e lo guardo youtube lo proporrà qualcun altro sicuramente non faremo da 0 a 1 milione il primo giorno perché quella è vincere la lotteria però avremo una crescita nel tempo costante quindi ecco qua questi erano 6 consigli per partire con la comunicazione online io sono davide bernia fondatore della trafol academy e ora qui in veste di tabuia agency comunicazione e marketing per cinofili a presto ci vediamo con i prossimi video ricordati di lasciare un like e di iscriverti al canale se non l'hai ancora fatto a presto